Questa è una tragedia che si inserisce nel più vasto campo del disastro dei morti sul lavoro. Qui però ce n'è uno in più di disastro, perché questi sono i moderni schiavi. Mentre i morti sul lavoro, di cui tanto spesso parliamo, da Brandizzo fino ad arrivare a Tissenkrupp a Torino, spesso chiamano in causa le norme di sicurezza. In aziende che magari hanno anche lavoratori regolarmente assunti, molto spesso il dramma è connesso ai subappalti, lo sappiamo, ne parlerai con Landini dopo, senz'altro. Qui invece siamo in un sottomondo della proletarizzazione contemporanea. Questi sono veramente fantasmi, gente che lavora per 3 euro l'ora, per 14-15 ore, sui campi di pomodori, di zucchine, di melanzane. E' un fantasma, come dici tu, questo ragazzo di 31 anni, che ferito sul luogo di lavoro, non viene soccorso, non viene portato immediatamente all'ospedale, ma caricato in macchina. Caricato in macchina, il suo braccio staccato da quel terribile macchinario, e fa venire in mente un'altra tragedia, quella di Luana Dorazio, vi ricordate, divorata dall'orditoio, nel Pratese, in un'azienda tessile, il suo braccio messo in questa scatola di frutta e anche quello gettato via così. Si calcola, grossomodo, più di 20.000 i lavoratori che vivono, gli schiavi che vivono in questa condizione. Esiste una legge sul caporalato, non rispettata, non si fanno mai controlli. Tutto questo succede perché serve a garantire a noi benestanti, borghesi, di avere ogni giorno sulle nostre tavole frutta fresca, verdura fresca, prodotti alimentari di prima qualità. Tutto questo sulle spalle di questi schiavi. Ora, la domanda è, si può continuare ancora a lungo così? E ogni volta scoprire attraverso tragedie di questo genere? Perché poi, ecco, dopo la vicenda di Satnam, si approfondisce e si scopre che di incidenti così ne succedono tantissimi. non vengono proprio neanche denunciati, proprio perché è un mondo sommerso, totalmente in nero, e quindi i caporali sono i primi a non denunciare. E anche questi, in schiavitù, non sono in grado di rivolgersi al sindacato, fare appello ad un sistema di legale. Mancano i controlli, soprattutto mancano i controlli. E' quello il dramma. Ce ne accorgiamo solo quando crepano, ripeto, come schiavi. Questo lo riprenderemo.